È evidente che non sta in Santana di Norte al momento qui. Immagino che sta mirando la limpiezza quando sta tomando il luogo di personal di Total Cleaning. Di con l'antacchino, per sovrappare l'autorità che sta in questo sito qui. Si sta a chiamare per il motivo di ora di mardugare a un caso, quando è ora di merdia, l'autorità si sta a notificare, a batte l'arma, per sovra a quibra un graf, a quinta tratta di graf di sr. Julio Matos, che è il caso che ora dirà e acaba per l'anno 2012, dia 31 di Dezembro 2012. Ela nasce dia 75 e mori nel 2012. E non sta qui non, per sovra, è stata un' notizia, per sovra a quibra, non sa che è defunto per di graf, ben teco, carra, cultura, che bollano. L'autorità, la comissà e la investigazione, ma ora, per notizia, è notificata la famiglia, anche, per presentare il sito, non sa che il sito, non sa che il sito praticamente attacchino, la città della resta, non sa che il sito, la città del graf, e poi la funeraria manda il suo personale, il sito, per sovrappare, per sovrappare il graf, e poi la città del graf, e poi la città del graf, e sarebbe completato. Qu'è il motivo che la città della città? È stata qui, che è ancora conosci, però, è stata qualcosa che, un giorno passato, attende di alcun carpaccio, che la città della città di Zewaic, la città della città della città, la città della città, specificamente, il graf è il BA68 di Julio Matos. La famiglia è stata in alto, e il personale è stato di clean, e la città della città della città, e la città della città della città, la famiglia è stata presenta, e il personale è stato di clean, terminando il lavoro, e la nostra bella è stata passata, per finire il pari di disinfettare, la città della città della città, e la città della città della città. La informazione è stata di Sant'Anna, di Norte, non è stato di Misa, di Norte, Misa Santa Anna, di Sant'Anna, qui non è stata. Un reportaggio completo, che è stato di Riqui Maria, della città della città della città della città della città.